Quando esco dall'Uni, metto sulla corona, senza abilitazione, che brutto è! Il corteo del finto funerale all'esame di laurea abilitante in medicina e chirurgia ha attraversato il campus di Chieti dell'Università d'Annunzio. Dietro la bara alcuni degli studenti in medicina di azione universitaria che chiedono al governo la revisione del decreto ministeriale 58 varato dall'ex ministro dell'istruzione Fedeli, che introdusse modifiche all'abilitazione alla professione medica. Il decreto 9 maggio 2018 prevede tutto perché è una laurea veramente abilitante, attendavamo con ansia che si potesse lavorare seriamente ad un percorso formativo in medicina e chirurgia che coincidesse con il percorso abilitativo, così non è stato. Quindi oggi il motivo della manifestazione sia a livello locale, ma è una manifestazione che si sta svolgendo anche a livello nazionale, è chiedere a gran voce che la laurea in medicina diventi veramente abilitante e quindi che noi possiamo esercitare la professione di medico-chirurgo all'atto del conseguimento della laurea. Sostanzialmente cambierà la modalità di abilitazione, non solo nelle domande, ma cambierà la modalità anche per arrivare a queste domande. Prima il vecchio decreto prevedeva il fatto che dopo la laurea ci fossero tre mesi di tirocinio e poi conseguire l'abilitazione, ora invece questi mesi sono spostati, questi tre mesi, all'interno del corso di laurea. Però sostanzialmente c'è stata grossa confusione nel decreto uscito nel maggio 2018 e c'è un silenzio assordante dagli attuali vertici istituzionali che non ci dicono come dobbiamo abilitarci. Tra l'altro in un periodo in cui i medici mancano? C'è una carenza enorme di specialisti, il grande problema del percorso formativo di uno studente, di un laureato in medicina e chirurgia è anche il percorso post lauream. Si grida, apriamo, rendiamo medicina numero aperto, ma non ci si rende conto che il problema non è a Valle ma è a Monte. Dopo la laurea c'è un concorso d'ammissione per la scuola di specializzazione, le borse di studio per le medesime sono non congrue rispetto alle esigenze, la carenza che c'è e il numero dei concorrenti, do dei numeri nel concorso d'ammissione alle scuole di specializzazione del 2018, 16 mila erano i concorrenti, nemmeno 7 mila le borse di studio.